ragazzi questo un grande avvistamento di una garzetta una specie di piccolo aione è estremamente raro vedere nelle acque costiere della sicilia di solito le garzette sono uccelli d'acqua dolce ma raramente si spostano nelle acque salate questa è una novità non me l'aspettavo proprio ad incontrare un esemplare proprio qui nelle acque costiere della sicilia direi proprio che una no novità per i soci junior della lipo beh non c'è che dire sono veramente sorpreso gli aioni incazzano si nutrono di piccoli pezzi piccoli pesci ma anche di insetti grazie